Nuovo aggiornamento sui dati relativi ai contagi da Covid. Il Ministero della Salute ha comunicato che gli ultimi dati certificano la presenza di 10.008 nuovi pazienti positivi, dei quali 391 in Sicilia. Per quanto riguarda la provincia di Caltanissetta, nelle ultime 24 ore si è avuto un riscontro di 7 pazienti positivi al SARS-CoV-2, tutti in isolamento domiciliare. Due sono di Caltanissetta, due di Gela, due di Mussomeli e uno di Sutera. Ricoverato in degenza ordinaria un paziente di San Cataldo. Dieci le persone guarite dal Covid, cinque sono di Gela, tre di Caltanissetta, uno di Mussomeli e uno di Santa Caterina Villarmosa.